Antonio Moretti torna libero, è stato infatti annullato ogni obbligo restrittivo. A deciderlo il giudice del Tribunale di Arezzo, Pier Giorgio Ponticelli, che ha accolto le richieste presentate dai legali difensori dell'imprenditore Arettino, del vino e dell'abbigliamento, gli avvocati Mauro Messeri e Stefano Campanello. Moretti dunque torna ad essere completamente svincolato da ogni misura cautelare, compreso il divieto di espatrio. Un'altra partita invece si sta giocando in Cassazione, dove ieri è stato discusso un doppio ricorso, uno presentato dalle difese dell'imprenditore, l'altro invece dal pubblico ministero Marco Dioni. Entrambi i ricorsi erano stati presentati contro il verdetto del Tribunale del Riesame, che aveva parzialmente riformato l'entità del sequestro di 25 milioni di euro, stabilito dal decreto del GIP Pier Giorgio Ponticelli, riducendo la somma. La procura punta al ripristino integrale del decreto del GIP, la difesa invece ad ottenere l'annullamento del sequestro stesso. Il provvedimento riguarda l'accusa di autoriciclaggio formulata dal PM nei riguardi di Moretti. L'imprenditore finì manette lo scorso 23 novembre, nell'ambito di una maxinchiesta della Guardia di Finanza Aretina. Secondo l'accusa, quella scoperta dalle fiamme gialle, sarebbe stata un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, bancari, fallimentari e di riciclaggio, al cui vertice c'erano Antonio Moretti ed il figlio Andrea.